Salve amici miei, oggi preparo con voi il coniglio. Io ho preso un coniglio di un chilo e mezzo e l'ho messo in consa, l'ho messo con rosmarino, salvia, peperoncino, aglio e ho fatto un trito poi dopo l'ho lasciato reagire per un'oretta. Poi dopo andiamo a preparare la salsa dove andiamo a cucinare il nostro coniglio. E ho preparato due cipolle già pronte per essere tagliate, il prezzemolo e il coriandolo e poi le spezie, qua il peperoncino, curcuma, un po' di pepe e rosmarino e salvia, peperoncino macinati, anche se l'abbiamo messo prima freschi, un pochino secco io lo metto. Vado a tagliare la cipolla, trittarla bene, io ho questo tersino qua che mi facilita il lavoro e vedete com'è? È molto trittata. Quindi facciamo un letto di cipolla e aglio, li mettiamo nella padella, accendiamo il fuoco, li mettiamo su. Questo attrezzo veramente ragazze è molto carino, vi aiuta tantissimo perché senza stargli a tagliare la cipolla col coltello e farla proprio un attimo, veramente, guardate com'è carino questo agiggetto qua l'ho preso da Lidl e quindi l'ho pagato pochissimo, qualche euro, è utilissimo veramente. E qua vado a mettere la cipolla l'alio sul fuoco con 2-3 cucchiai d'olio d'oliva e li lascio rosolare. Adesso ne mettiamo anche l'alio un bel filo e li lasciamo rosolare lentamente senza aumentare il fuoco, quindi fuoco basso è meglio. Copriamo, li lasciamo un massimo, tanto andiamo a preparare le spezie. Io preferisco farli così nella scudellina con un pochino d'acqua, vedete qua un po' di rosmarino, salvia, aglio, peperoncino, un po' di curcuma e un po' di peperoncino, un po' di più perché mi piace un po' piccante e anche un po' di sale e pepe. Iniziamo un po' di sale e poi andiamo adesso a mettere un po' d'acqua. Vescoliamo il tutto per bene, poi andiamo a versarlo nel nostro coniglio, perché prima non ho messo il sale, quindi ho messo solo le erbe aromatiche e adesso mettiamo tutte le spezie. Vedete adesso, perché l'ho lasciato più di un'ora, ha già saporito, poi tra l'altro l'ho preso già pronto, l'ho lavato e basta, l'ho lasciato sgocciolare e poi l'ho messo la mia consa e l'ho lasciato coperto in un angolino per almeno un'oretta. Se avete il tempo, fatelo anche di sera, il giorno dopo ce l'avete proprio molto saporito, molto buono. Io uso molto il pressemolo e l'aglio e il coriandolo quando cucino il coniglio. Adesso vado a trittare il pressemolo e il coriandolo. Intanto vado ad aggiare le nostre pezzi di coniglio sopra la cipolla che è già abbassata. limitiamo tutti i nostri pezzi e poi versiamo le nostre spezie e poi copriamo e lo lasciamo proprio saporire. Il fuoco è sempre il vaso, mi raccomando ragazze, adesso vado a trittare il pressemolo e il coriandolo e facciamo proprio un bel dritto. Come vedete non mi ha bastato il coltello, ci ho messo anche la mezzaluna e adesso vado a trittarlo per bene. Una parte li uso per il nostro coniglio e l'altra magari li uso per fare una insalata di pomodoro, solo di pomodoro con pressemolo e coriandolo e aglio. Rifrescante, molto buona, molto saporita ragazzi, provatela perché le cose semplici sono più buone, più leggere, più veloci, veramente. Eccoci qua, adesso ho finito di tagliare le nostre prezzemolo e coriandolo. Puglisco poi andiamo a vedere la nostra pentola. Eccolici qua, sta cuocendo, ha un profumo spettacolare. l'aglio, prezzemolo, coriandolo, veramente molto buono. E adesso metto una bella manciata sulla nostra pentola. Li lascio saporire per almeno cinque minuti, finché si assorbe tutto il suo brodo. Ed eccolo qua, molto molto buono. Guardate come è rosolato, saporito. Ragazzi provate questo piatto veramente, questa carne è spettacolare, è sembra pesce, veramente. Perché l'aglio, prezzemolo, coriandolo, lo dà un altro sapore, credetemi. E adesso andiamo a tavola a servirlo, potete servirlo con un po' di verdura, lessa o a vapore, se no anche con delle salse. Il coniglio, ragazzi, è una carne tenera, sembra pesce, quando è cotto al modo giusto. E fin qua, ragazzi, io ho finito il video, se vi piace lasciatemi un like, scrivete nel mio canale, condividete il video con i vostri parenti e i vostri amici. E vi saluto ragazzi al prossimo video con un altro suggerimento. Ciao a tutti e buona giornata!